Invece il testimone al quale cedo la parola, il microfono, è l'onorevole Mario Marazziti. Mario Marazziti è parlamentare della Repubblica, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, membro tra i fondatori della comunità di Sant'Egidio e quindi come abbiamo detto ripetutamente partner di questa avventura ecumenica che ci sta portando in Nord Africa. All'amico Mario, ma anche all'onorevole Marazziti, questa foto è una foto pesante. Grazie Paolo, perché con poche parole mi hai fatto ricordare una frase che mi viene spesso in mente, ma perché sono andato in Parlamento, visto che facevo tante cose buone prima. L'immagine è pesante, però io voglio dire che non è una situazione impossibile, ma dobbiamo cambiare punto di vista e si può alla fine immaginare che anche in Europa e anche nel mondo questo punto di vista possa cambiare. A volte il male sembra molto forte, il male è molto forte e io personalmente sento come se questa nostra generazione sia attraversata da forze del male che contrastano in maniera pesante la grandezza del bene. Ma noi sappiamo che il male non vince, ma noi sappiamo che dobbiamo lavorare perché il male non vinca. Io ho questa sensazione forte che è la sensazione che uno ha quando pensa alla pace in Palestina e all'omicidio di Rabin, come ci sono dei momenti magici nella storia e poi quel momento passa. E perché la forza del male uccide nel momento in cui stanno chiudendo quella guerra, che oggi è una cancrena che va avanti da più di 60 anni. E poi la forza del male che vediamo in televisione, addirittura la forza del male delle decapitazioni usate per creare terrore per dare la prova della forza che parla dentro al mondo musulmano per dire che noi siamo i vendicatori dell'umiliazione di secoli e al mondo centrale noi possiamo farvi paura anche se siamo lontani. Questa forza del male a volte è pervasiva e di fronte alle storie che abbiamo ascoltato è un dolore che arriva dentro. Allora, che si può fare? Dov'è la politica? Che cosa può fare la politica? E come si cambia il mondo? È la domanda che io ho da bambino, fin da bambino, che tanti di noi hanno dentro fin da bambino. Non mi sottrago alla risposta, ma ci arrivo. E allora, per esempio, perché io sono dentro al Parlamento oggi, perché ho accettato nelle ultime elezioni di partecipare, dopo aver detto no due volte a provare a fare il presidente della regione di Lazio, la mia regione, o a fare il vice sindaco di Roma, perché mi sembrava una situazione disperata, perché sembrava che la politica non ce la faceva più e allora forse è il momento di farlo perché proprio c'è una forza del male, cioè c'è una forza dell'impotenza, perché bisogna cambiare. E poi c'è questo male che cresce, cioè arrivo anche agli immigrati, arrivo anche a questa domanda sull'Europa. Io, per esempio, con la comunità di Sant'Egidio, ho lavorato tutto il primo anno della guerra in Siria per provare a fermare la guerra in Siria. Ero probabilmente l'unico europeo che aveva la possibilità di entrare in Siria in maniera regolare anche durante la guerra, anche quando hanno chiuso le ambasciate europee, perché avevo lavorato in Siria, perché avevo costruito un centro tra pianti, perché avevo lavorato a costruire una generazione di nuove professionalità che combattessero la più grande malattia genetica del mondo, che è l'anemia falciforme, l'anemia mediterranea, che però può essere letale e che è molto forte lì. Per questa gratitudine mi facevano entrare perché speravano all'inizio di quella guerra che si potesse costruire una soluzione che io e con la comunità di Sant'Egidio potessimo crearla. E allora abbiamo lavorato a cercare l'opposizione siriana, gli oppositori di Assad, ma che non volevano la guerra, che lavorassero per una soluzione politica, che potessero essere la transizione verso un'altra cosa. Per un anno, due volte, siamo stati vicini a costruire un soggetto vero, credibile, di oppositori che credevano nella democrazia, che l'Europa avrebbe potuto appoggiare perché l'Europa non era per la guerra, era per la pace, ma per aiutare un processo democratico e uno Stato meno totalitario. ma il mondo ha investito sulla guerra, ma il mondo ha detto prima Assad deve andare via, dopo si tratta. Erano poche centinaia le vittime allora, adesso sono 250.000 morti, sono un milione di feriti e mutilati, sono 4 milioni di profughi fuori dalla Siria e sono quasi 10 milioni, più di metà della popolazione, di sfollati dentro la Siria. E allora non esisteva il cosiddetto Isis, non esisteva il cosiddetto califato, il cosiddetto Isis e il cosiddetto califato nascono in Siria durante questa guerra, una guerra che non c'era, una guerra che si è convinti che si vinca quella guerra aumentando quella guerra. Allora il senso della forza del male, perché ci sono stati due momenti in cui c'era il varco per costruire un soggetto di oppositori politici credibili che diventasse interlocutore della democrazia occidentali per aprire un tavolo, per chiudere quella guerra e poi magari Assad perdendo delle elezioni o dentro un negoziato poteva trovare un altro ruolo, il regime di Assad, perché Assad non è uno, è un sistema. Allora, quando il varco si chiude, e si è chiuso perché? Perché la Francia ha riconosciuto come legittimo il governo all'estero costruito a Doha un governo costruito con 63 persone, di cui 39 islamisti, approvato dalla Francia, riconosciuto dalla Francia, poi riconosciuto dall'Europa e dagli Stati Uniti. si chiude il varco, non c'è più l'interlocutore, non si può più fare la pace con una soluzione politica. Sono passati da allora altri due anni e mezzo e oggi siamo alle cifre che abbiamo detto. E oggi abbiamo l'Isis. Allora c'è una forza del male. Questa forza del male è quello che oggi purtroppo entra anche dentro i temi di cui parliamo. Perché il male che cosa fa? Allora, prima di tutto, quando penso a questo, penso che cosa si può fare? Allora immagino gli stranieri, i migranti e ho altre immagini, ho altri debiti, perché io quella Siria l'ho vista, li conosco quelli. Hanno rapito il nostro amico Paolo Dall'Oglio, hanno rapito i due vescovi di Aleppo, nostri amici, hanno rapito tanti altri, hanno rapito il più bravo degli oppositori siriani, Abdullaziz Al-Kahir, che stava lavorando alla soluzione politica mentre stava tra l'aeroporto di Damasco e la città. Non sappiamo se è ancora vivo. Era un amico. E tra gli amici ho tante immagini, ma non sono disperato. Ho tante immagini, ho l'amico, e oggi è il 24 di agosto. Il 24 di agosto è stato ucciso a Villa Literno, Gerry S. Maslow. Gerry S. Maslow era un battista sudafricano, era scappato dal Sudafrica dell'Apartheid, dopo che avevano ucciso in una manifestazione il suo padre e uno dei suoi tre figli. È arrivato in Italia, è stato quattro settimane a Fiumicino, non poteva venire in Italia perché? Perché all'epoca l'Italia aveva la cosiddetta clausola geografica, cioè potevano entrare come rifugiati solo quelli che venivano da paesi comunisti. Era ancora dentro l'idea della guerra fredda. E allora dopo quattro settimane all'aeroporto, Amnesty International, voi, voi avete lavorato a questo. Alla fine il governo italiano lo ha lasciato entrare, la comunità di Sant'Egidio lo ha accolto in una nostra casa, la tenda di Abramo, e Gerry S. Maslow era uno che è morto a Villa Literno, è morto perché era uno di quei raccoglitori di pomodori, perché la notte sono andati nella casa e sono andati a rubargli i soldi, quei soldi lì li volevano pure rubare. L'hanno ammazzato lui e poi tre amici sono stati feriti. In quel momento l'Italia ha pensato, ma questo è uno schifo, è uno scandalo. L'Italia si è rivoltata, c'è stata una commozione generale, ci sono stati i funerali in diretta. A Santa Maria Trastevere la RAI ha trasmesso in diretta i funerali di un poveretto che raccoglieva i pomodori. C'è stato un evento straordinario, in quel momento è nata la forza per la prima legge, la legge Martelli, che poi entra in vigore alla fine dell'89, che toglie la clausola geografica, crea i diritti per i regolari, crea più difficoltà per chi non è entrato in maniera regolare. Ma subito dopo, subito dopo, inizia un grande dibattito contro gli immigrati. Gli italiani brava gente trovano che siccome si parla tanto di immigrati, gli immigrati sono troppi, inizia l'invasione perché la percezione del problema dell'immigrazione non ha mai niente a che vedere col problema reale. Più sono grandi i titoli di giornale, più gli italiani pensano che gli immigrati sono un pericolo. Anche se dicono sono buoni, ma se hai un titolo grande così che dice che gli immigrati sono buoni, dopo tre giorni che cosa diceva quel titolo viene dimenticato, resta che quel titolo è grande, gli immigrati sono tanti. Questa rappresentazione del problema degli immigrati è la malattia che impedisce di trovare le soluzioni. Oggi la forza del male passa anche attraverso queste cose, passa attraverso 20 anni in cui si è usata per gli immigrati una sola parola, clandestini, irregolari, extracomunitari, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, irregolari, no, clandestini, perché i clandestini sembrano nascosti e fanno paura, perché c'è una forza del male che usa la predicazione della paura. Allora è giusto quello che dicevi tu, è una grande battaglia culturale, noi dobbiamo lavorare per cominciare a cambiare il linguaggio, arrivo all'Europa, giuro, non scappo. Dobbiamo lavorare in maniera immensa per creare una predicazione dell'altro come persona, non perché siamo buoni o buonisti, ma perché questa è la verità, perché noi dobbiamo ribaltare un linguaggio che è stato pervertito. Quando dico la forza del male il diavolo è il simulatore. L'impossibilità di trovare le soluzioni non è perché gli italiani sono cattivi, gli europei sono cattivi, gli esseri umani sono cattivi, ma perché c'è una perversione del linguaggio che imbarbarisce l'anima e le coscienze e diventa tutto uguale e non si capisce più niente, perché la cultura, la globalizzazione dell'indifferenza c'è. Quello che ha detto il Papa a Lampedusa quando è andato controcorrente a Lampedusa per primo e ha detto è come l'innominato, come nei promessi sposi, perché la globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti indifferenza e tutti innominati e non è colpa mai di nessuno e non centriamo mai nessuno e non centriamo niente, eppure centriamo tutti. Allora il problema di questa perversione del linguaggio che diventa predicazione della diffidenza, del disprezzo e che poi chiama con il nome sbagliato la cosa giusta, cioè gli immigrati ci sono, le travolzate dal Mediterraneo ci sono, sono tanti, ma non sono un'emergenza, sono un dato strutturale del nostro tempo, è un cambiamento epocale. Ci sono 60 milioni di migranti, immigrati, forzati, profughi nel mondo oggi, in questo momento. È la cifra più grande dalla seconda guerra mondiale. Non è che diminuiscono, stanno aumentando. Sono di più di quando l'India si è divisa dal Pakistan, che era una migrazione biblica. Sono 60 milioni nel mondo, 4 milioni solo fuori dalla Siria. In Libano, in Giordania, su 7 milioni e mezzo di abitanti e 4 milioni e mezzo di abitanti, ce ne stanno due e mezzo in più e uno e mezzo in più. Cioè il 30% in più sono profughi. Come se in Italia i profughi, gli immigrati, fossero 60 milioni. Come se in Europa fossero 200 milioni. Ma stiamo parlando di 200 mila migranti che arrivano in Italia? Stiamo parlando di 70 mila siriani ospitati finora in Europa? Quando sono un milione in Libano. E il Libano è più piccolo della Sicilia. Allora, in questa situazione, noi dobbiamo fare, la politica può fare. La prima cosa che penso è Gesù, perché lo dobbiamo fare? Prima di tutto perché noi come cristiani non possiamo stare che da quella parte. La parola straniero nella Bibbia, primo e secondo Nuovo Testamento ricorre 226 volte e tutte 226 volte va nella stessa direzione. Dice lo straniero va trattato come l'orfano, come la vedova, come noi. Poi nel Deuteronomio si dice devi amare lo straniero, cioè si aggiunge di più. E poi c'è il Nuovo Testamento e poi c'è Gesù che è lo straniero. Gesù viene accusato di essere samaritano per dire che è uno straniero. Gesù muore con la morte degli stranieri. E il buon samaritano, lo straniero, e voi lo sapete meglio di me, è un brano poi a me molto caro, a noi molto cari della comunità di Sant'Egidio, anche perché è su quel brano che è nata anche un'amicizia speciale con la comunità valdese, perché io facevo l'università, quindi molti anni fa andai a Piazza Cavour a trovare l'allora professore pastore Valdovinai, a dirgli perché non viene a predicare una volta alla comunità di Sant'Egidio. E lui predicò sul brano del buon samaritano, però lo unì al brano di Marta e Maria, dicendo non c'è contrapposizione tra pregare e l'amore per i poveri. E questo è anche Sant'Egidio. E su questo è nata e cresciuta la nostra comunione. Questo progetto è figlio di questo. Allora, il brano del buon samaritano, c'è un'icona meravigliosa della tradizione orientale sul buon samaritano che mostra il buon samaritano che raccoglie l'uomo mezzo morto percosso dai banditi e che ha la stessa faccia del buon samaritano. Hanno la stessa faccia, il buon samaritano e l'uomo percosso mezzo morto. E la faccia è quella di Gesù. Gesù è l'uomo percosso mezzo morto, Gesù è il buon samaritano, è lo straniero. Il povero e lo straniero sono Gesù. Allora noi potrà non essere una soluzione politica, potrà non essere una soluzione per l'Europa, ma noi non possiamo stare da un'altra parte. Questo non è compatibile con l'essere cristiani il disprezzo verso lo straniero, togliergli la dignità o dire vengo all'Italia e poi all'Europa e dire la televisione, le grandi proposte, quella di Salvini, quella di Grillo 5 Stelle. Grillo 5 Stelle dice più respingimenti meno ingressi. Facile. Più respingimenti? Sì. Dove? Li riportiamo in Libia? Libia. La Libia non c'è più. Ci sono i trafficanti in Libia, ci sono le bande in Libia, c'è la guerra in Libia, ci sono quelli che già hanno sfruttato questi migranti in Libia. Ma chi ce li riporta in Libia? Più respingimenti dove? In mare. Invece Salvini, TG1, 4-5 giorni fa, 6 giorni fa, domanda ma lei dice che bisognerebbe non soccorrere la gente in mare? Risposta. Vorrei che non partissero vorrei che non morissero. Beh, geniale. Cioè la politica sarebbe anche il problema delle soluzioni. Cioè sarebbe già un'accusa di spiritualismo addirittura alla tavola valdese. ti è. Ecco. Cioè vorrei che non partissero, vorrei che non morissero. Solo che i tagliagule e poi ci stanno le persecuzioni e poi stanno sparendo comunità millenarie e poi vendono come schiavi gli yazidi in Iraq e poi la piana di Nive è spopolata delle più antiche religioni del mondo. E poi i cristiani. I cristiani stanno sparendo dalla Siria. A Homs 100.000 cristiani ne erano rimasti 54 nel centro di Homs 6 mesi fa. Non so com'è adesso la situazione. Non sono morti tutti. Ma allora in questa situazione il problema dell'Italia e dell'Europa. L'Italia io credo che non può cedere alla predicazione dell'odio e a questa predicazione che dice niente stranieri, niente immigrati. Perché questa non è una proposta politica, non è fattibile, non è cattivi contro buoni. Alzare i muri, quello di Calais, quello adesso in Ungheria. Non ferma gli immigrati. Noi stiamo facendo insieme, stiamo dimostrando insieme che in Marocco sarà possibile creare i primi viaggi sicuri. Selezionare prima le persone, parlarci, decidere quali, fare un viaggio sicuro con i permessi umanitari. È un progetto che si può fare. E fare un prototipo lì e magari in Libano perché poi diventi contagioso per le chiese e per le cancellerie. Allora in questa situazione l'unica cosa che si può davvero fare è smettere con l'emergenza e decidere. Questa è una sfida epocale perché è la sfida dei prossimi decenni. Allora ci sarà una conferenza mondiale ONU che dovrà mettere al centro le migrazioni, come cambia il mondo, come quando è finito il regime napoleonico, cioè il congresso di Vienna e che si fa? Perché stiamo di fronte a una sfida epocale. Poi abbiamo l'Europa. L'Europa ha dei mezzi. Il summit, bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. L'Europa viene da due decenni in cui la politica europea ha dato priorità a che cosa? All'allargamento ad est. L'allargamento ad est ha portato nell'ultima fase che è stata gestita male perché è stata gestita a guida polacco-lituana, cioè dai soggetti più timorosi della Russia, tra tutti i soggetti europei, è stata guidata in una forma in cui è stato fatto credere agli ucraini che sarebbero potuti stare nell'Unione Europea. Questo era incompatibile con la storia, con la geografia e anche con la politica e anche con la sicurezza perché non era accettabile che un pezzo di quella roba dove c'è parte della sicurezza della Russia potesse essere europea ed era contro gli accordi di quando si è finita l'Unione Sovietica, quando l'Ucraina ha rinunciato alle armi nucleari in cambio del fatto di uno status quo, di essere uno stato cuscinetto. Allora questa cosa ha fatto sì che l'Europa è rimasta sbilanciata in quella direzione per vent'anni, ma c'era il Mediterraneo. Ma far cambiare l'agenda europea e abbassare il baricentro e dire è un'altra la priorità è un tempo geologico. L'Italia devo dire l'Italia ha avuto una forza anche se non c'è il risultato ancora incredibile perché il Mediterraneo e l'immigrazione è entrato nell'agenda europea, in un'Europa che sta con la guerra dell'Ucraina e che per 20 anni ha privilegiato quell'asse lì. Quindi siamo all'inizio purtroppo non della soluzione ma del percorso della soluzione. Allora concludo che può fare oggi l'Europa, che deve fare oggi l'Europa. L'Europa oggi può iniziare a creare i viaggi sicuri con i permessi umanitari come si fa in maniera pilota in Marocco o in Libano o creare semplicemente la possibilità di fare la domanda di asilo partendo dai paesi di transito, cioè non nel momento in cui si tocca l'Italia, perché in quel modo è possibile poi orientare meglio i flussi. Può intercettare i flussi dei profughi prima che arrivino in Libia, in Niger, in Etiopia, a Khartoum e ridurre il tasso di sfruttamento umano che c'è prima di arrivare in Europa. L'Europa può creare la solidarietà positiva all'interno dell'accordo di Schengen e all'interno dell'accordo della convenzione di Dublino, anche senza cambiare ancora quella convenzione, perché può fare almeno che alcuni stati si gemellano, cioè creano degli esempi positivi, perché gli accordi europei creano il minimo ma non impediscono a degli stati di fare di più. Allora l'Italia, la Francia, la Spagna, la Grecia potrebbero gemellarsi con la Germania, con la Svezia, con dei paesi del nord e almeno creare la reciprocità, cioè che si possono fare i ricongiungimenti familiari tra questi stati e non c'è più il blocco per cui si sta qui, si sta ammucchiati e non si sa che fargli fare. Allora l'Europa può fare questo e io e altri stiamo lavorando per creare gemellaggi tra deputati di vari paesi europei per creare massa critica perché questo passi anche da parte degli stati, perché dov'è il blocco nei summit? Il blocco nei summit è il problema dell'unanimità. L'allargamento europeo è stato straordinario ma è stato prima di aver fatto delle regole efficienti e allora si tratta di creare, ci stanno alcuni paesi che bloccano, bisognerà creare un grande movimento culturale e politico per cui quei paesi che bloccano arrivino a vergognarsi, quindi creare delle pratiche diverse e positive che possano essere il nucleo aggregante del cambiamento delle politiche. Io non posso dire più di questo, in Italia facciamo altro, discuteremo a settembre la legge sulla cittadinanza e dopo molti anni, dopo 20 anni, avremo la prima generazione di bambini nati in Italia o che hanno studiato in Italia che saranno italiani. Questo sarà anche un modo per rispondere nel lungo periodo ai problemi che tu hai detto perché il cambiamento culturale sarà più facile quando vedremo questi nostri amici, fratellini italiani che hanno dei colori diversi. Grazie. Grazie.